Non è sicuramente un buon momento per il Monterosi-Tuscia, alienato da Leonardo Melichini che in questo preciso momento della stagione occupa il quindicesimo posto della classifica generale del girone CITIS-RC, appaiato a quota 20 punti con la Turris, ma avanti rispetto alla compagine campana per via di una migliore differenza a reti. Nelle ultime cinque partite i torri della Tuscia hanno ottenuto ben tre sconfitte rispettamente contro Taranto, Picerno e Fidelisandria, tutte conclusesi sul risultato finale di 1-0. Contro l'Avellino di Massimo Rastelli, i biancorossi proveranno ad invertire la lotta per cercare di uscire dalle zone calde della classifica. Tra i giocatori più attesi per il match contro i Lupi, vi è senza alcun dubbio Rocco Costantino, capocannoniere della squadra con ben sette goli realizzati nelle prime 18 giornate di campionato. In vista del difficile impegno casalingo contro i Umi di Rastelli, il tecnico Menichini dovrebbe mandare in campo lo stesso 11 titolare, visto allo Iacovone lo scorso 11 dicembre, affidandosi al consueto 3-5-2, fatto vedere nelle ultime due gare. In porta confermato Moretti, difesa 3 composta da Mende, Piroli sulle fasce, con Borri al centro. Centrocampo a 5 con Cancellere e Verdi che aggeranno sulle corse laterali, in mezzo Lipani, Di Valantonio e Parlati. Coppia d'attacco formata da Carlini e Costantino con quest'ultimo che avrà il difficile compito di scardinare la difesa bianco-verde.